Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Non potete rimettere la webcam Oggi siamo sul mio computer Windows Oggi vi farò vedere come scaricare Inazuma Eleven Ghost Strikers Che è uno dei giochi più belli di Inazuma Eleven Ci ho fatto video in precedenza nella Wii però C'è chi dice nei video che si può patchare in italiano Ma non so come si patcha purtroppo Credo che si possa patchare Comunque allora andiamo a cercare Andiamo su Chrome e cerchiamo Cerchiamo Download Torrent U Torrent U Torrent E andiamo su Download Alternativo Aspettate qualche secondo Vi consiglio di aspetterre almeno 5 minuti E vi farò il download Non ci saranno altre cose Niente Non vi preoccupate Allora Garanzia Zero Vabbè Ci clicchiamo E vi fare il download Poi Ah se avete qualche problema scrivetemi nei commenti qual è il problema Cavolo Cavolo In seguito quando avete finito di scaricare tutto Togliete il download torrent Ragazzi come ho detto prima Concegliamo torrent Ma che cavolo va Ma che cavolo va Ma che cavolo va Ma Questo è il stop Ci vediamo quando finisco di scrivere Scrivete download torrent E cliccate invio Questa è un'applicazione che ho scaricato io per la sicurezza del mio No perchè è vecchio No perchè è vecchio Softonic credo Spero Spero E andate Aspettiamo che si carichi perchè il move file non funziona quindi devo connettermi tramite Questo cavolo Devo connettermi tramite questo cavetto di internet Comunque E' così caricato Andiamo su Voi dovete fare il download sicuro io ve lo consiglio Oppure Ah non c'è Oppure fate il download gratis Io vi consiglio di fare download sicuro che è anche gratis Download gratis e download sicuro Clicciamo Poi ragazzi Sapete cosa fare Scendiamo giù E facciamo download alternativo E abbiamo scaricato quello che ho fatto Non ci rimane che scrivere Lo scelto Lo scelto download Tutto si dovrebbe Si deve scrivere tutto con download Aspetta Aspetta Che cosa sto facendo Ok Ok Scrivete download Stop e ve lo faccio vedere poi Oh scusate Oh scusate ragazzi Oh scusate ragazzi Scrivete download In azuma Andate Andate su Io questo non l'ho fatto ragazzi Ve lo faccio vedere Ve lo faccio vedere Andate sui giochi Poi Un po' di tosse Un po' di tosse Andiamo su Andiamo giù Ah fa un bagno Ci sono scritto download Ci clicchiamo E Andiamo giù Andate su Download Torrent Ovunque sia Cercate Download Ah no è qua Download Torrent Ci cliccate E Ve lo scarirà Ve lo scaricherete Se ti voglio Ok Poi All'inizio Voi Sapete Che comparirà La finestrella Voi scrivete sempre Salva Io Come ho fatto così Questo sarà il file Del gioco A questo punto Lo dobbiamo semplicemente aprire Adesso io Non mi ricordo Comunque Benissimo Vabbè Nel senso ve lo faccio vedere io stoppo Ci vediamo dopo Beh ragazzi Questo video si può concludere qui Non l'ho aperto Perché alla fine è arrivato un virus Un brutto virus E allora ho rimosso Comunque ragazzi Per favore guardate questo video Spero vi sia piaciuto Lasciate tantissimi like Ciao